Musica Benvenuti a questa puntata di A2x2, ospite di oggi nei nostri studi Fabrizio De Santis, presidente dell'Ampi, provinciale di Roma e coordinatore dell'Ampi del Lazio. Benvenuto. Grazie, grazie a voi e buonasera. Ecco, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La prima domanda è su cosa sia questa associazione e chi siano i partigiani oggi? Allora, l'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è un ente morale che nasce nel giugno del 1944, durante la guerra, ed è per decine di anni il sodalizio dei combattenti, di coloro che, a vario titolo, hanno comunque combattuto durante la resistenza e la guerra di liberazione italiana dal nazifascismo. E' stata, dicevo, quindi sodalizio dei combattenti fino formalmente al 2006, quando il congresso di allora, il congresso nazionale, decise di dar corso a una pratica in realtà già invalsa, e cioè di ammettere tra le file dell'Associazione anche coloro che ne condividessero lo statuto, e cioè che, dichiarandosi antifascisti, partecipassero alla vita dell'Associazione per perseguirne i fini. E questo rispondendo a diverse sollecitazioni che venivano dalla società civile, dal mondo in generale, nel senso della continuità della vita dell'Ampi, perché altrimenti, per il naturale decorso del tempo, l'Associazione avrebbe cessato sostanzialmente la sua attività. Quindi, dal 2006, invece, è l'Associazione, oltre che dei combattenti, degli antifascisti, che ne perseguono i fini, e quindi le generazioni lavorano insieme, almeno da allora, in tutta Italia. E fini dell'Ampi che sono diversi, quelli statutari, e che possono riassumersi sostanzialmente in alcuni punti fondamentali, anzitutto la memoria, certamente, la memoria dei fatti della resistenza e della guerra di liberazione, nella memoria dei caduti nella lotta di resistenza, lo studio dell'epoca, dei fatti, dei motivi, delle cause per i quali si produssero, che è uno studio sempre fecondo, e quindi anche sulle cause sociali, economiche, politiche, dell'epoca che portarono alla nascita, al consolidamento, al consolidarsi della dittatura fascista in Italia. Ed è un'associazione anche, però, rivolta all'oggi, nel senso che porta tra i propri obiettivi statutari fondamentali, quelli dell'attuazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana. L'Ampi ha partecipato alla manifestazione a tenutasi a Ostia. Perché avete sentito l'esigenza di essere presenti? In che modo, un po' l'ha detto, la violenza è una forma di fascismo? No. Noi abbiamo partecipato, ci sono state due manifestazioni recentemente ad Ostia, abbiamo partecipato ad entrambe. La prima, abbiamo partecipato, sollecitati anzitutto dalla nostra sezione di Ostia, che è stata tra i promotori di quel momento di manifestazione, di protesta, insieme a tanti altri, è stata una grande manifestazione. Ed era necessario partecipare, perché dal momento in cui noi vediamo ad Ostia una situazione tanto democraticamente grave, cioè socialmente molto grave, cioè una situazione in larghe facce della popolazione di disagio, se non quando di disperazione. C'è un distacco dalla politica enorme, perché abbiamo visto alle elezioni votare un terzo degli aventi di diritto. C'è una situazione di infiltrazione, la definiscono, di gruppi mafiosi. C'è l'evidenza di un collegamento con Casa Pound che si rifà direttamente al fascismo e che ha amicizie con questo o quell'altro esponente di note famiglie del litorale. E c'è una violenza che si ripete, perché al di là della testata che è stata ripresa e che quindi ha scioccato l'opinione pubblica, ci sono stati molti, da anni, episodi di violenza. Lì vicino, peraltro, 11 anni fa fu accoltellato e a morte Renato Biagetti, un ragazzo che aveva l'unica colpa di uscire da una serata danzante, una serata da un locale che faceva della musica giovanile. E fu ucciso dall'aggressione di due persone, al grido e zecche e merde, con tatuaggi espliciti, richiamanti. Insomma, c'è un clima e una situazione molto grave da molto tempo, anche dal punto di vista della violenza. Quest'anno, a febbraio, un militante, un volontario di una onlus che lavora per gli immigrati, è stato picchiato perché si è fatto vedere in pubblico, in un'iniziativa in cui c'era anche il municipio. I ragazzi della parrocchia di Ostia, insieme anche ai ragazzi della nostra sezione, avevano lanciato un corteo antifascista e abbiamo ascoltato dei proclami stile anni venti, questo corteo non sa da fare, spazzeremo via tutto. Ecco, questo è inaccettabile, noi non siamo negli anni venti, quindi abbiamo partecipato a febbraio, subito, come abbiamo partecipato in queste occasioni più recenti. Ecco, Ostia è un esempio di quanto l'unità del fronte antifascista sia importante. A Ostia, ricordiamo, ci sono state più manifestazioni, proprio perché in realtà la politica lì si è disunita e alcuni partiti non hanno voluto sfilare insieme ad altri, pur essendo tutti dalla stessa parte, dichiaratamente dalla parte della legalità e del diritto di espressione dei giornalisti. Anche a Roma, il 25 aprile, ci sono state delle divisioni, lei ha parlato di una divisione dolorosa, quella che ha visto l'Ampis filare senza la brigata ebraica. Su questo fronte ci sono delle novità, lei ha affermato che lontano dal clamore mediatico avreste cercato di ricucire lo strappo. Ricordiamo perché è avvenuta questa separazione. Ma questa separazione in realtà risale, purtroppo, già ad almeno tre, quattro, quattro anni fa, mi sale ad almeno quattro anni fa, è frutto di episodi condannabili, di scintille che vi sono state fra partecipanti al corteo, di incomprensioni, perché nel 2013 fu chiusa improvvisamente la manifestazione del 25 aprile, c'erano molte tensioni. Nel 2014 ci furono poi anche ulteriori episodi spiacevoli al corteo del 25 aprile. Ora, io credo che questa situazione, dal mio punto di vista, non si sarebbe mai dovuta produrre e non ha ragione di essere. Ed è una situazione che è tanto più adesso, con le cose di cui parlavamo, con questa rigurgiti, come li ha giustamente definiti, che appartengono all'Italia e a tutta l'Europa, questo tipo di divisione pesa, non solo dolorosa, ma pesa anche nelle possibilità di contrastare questi fenomeni, a fronte ai quali invece ci vuole la compattezza di tutto il mondo antifascista. quindi il nostro è un appello all'unità, sincero, accorato, indipendentemente, non indipendentemente, nel senso che sono da mettere da parte, risolviamo, ma insomma rendiamoci conto che l'eventualmente poco che ci separa non può essere d'ostacolo invece ad un'azione comune. Quello che vi separa è la posizione nei confronti dello Stato della Palestina. Sostanzialmente la Brigata Ebraica per protesta nei confronti della presenza di alcuni gruppi pro-Palestina non ha voluto sfilare con voi il 25 aprile? Allora, è per la presenza della comunità palestinese, però noi non abbiamo, e ci mancherebbe altro nulla contro la Brigata Ebraica, anzi, noi riteniamo che la comunità ebraica romana, la Brigata Ebraica, insomma, siano naturalmente il 25 aprile, dovrebbero essere naturalmente il 25 aprile a fianco dell'Ampi. Consideri che è ancora vivo un ufficiale di collegamento con la Brigata Ebraica che comunque il 25 aprile era sul palco con noi, non ha preso la parola perché si è emozionato in quel momento e non ce l'ha fatta a fare un saluto. Però, insomma, noi consideriamo loro come dei fratelli, sostanzialmente, quindi è una cosa che vogliamo superare. e poi c'è un luogo a Roma che si chiama la Casa della Memoria e della Storia che da poco ha dedicato una mostra alle donne costituenti e questo luogo è un luogo di incontro, nasce con questa vocazione per ricordare quello che è stato la storia del nostro paese ma anche per lanciare delle nuove proposte, delle nuove iniziative. Allora, intanto il luogo è la Casa della Memoria e della Storia del Comune di Roma che ospita la sede delle associazioni della Resistenza e della Guerra di Liberazione. Oltre all'Ampi c'è la FIAP, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, c'è la NPC, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Cristiani, ci sono i perseguitati politici del fascismo, i deportati nei campi nazisti, gli ex-deportati nei campi nazisti e gli internati militari e l'Istituto Storico dal Fascismo per la Storia d'Italia, la Resistenza per la Storia d'Italia e il Circolo di Tradizione Orale Gianni Bosio credo averli ricordati tutti. Nasce 11 anni fa su impulso dell'allora Presidente dell'Ampi di Roma Massimo Rendina il Comandante Max e ospita appunto tutte queste associazioni che insieme al Comune gestiscono una serie di moltissime iniziative, tra le quali ultima questa mostra che ha visto diverse associazioni, ad esempio la FIAP tra i di esse in particolare e noi abbiamo fatto anche un convegno alla Camera sulle 21 madri costituenti e vi sono diversi motivi, diversi che si intrecciano in realtà, perché vi è sia il settantesimo dell'approvazione, dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale e vi è pure una situazione rispetto al principio di parità di genere uomo-donna che è gravemente deficitaria. Ne è testimone ad esempio il largo movimento femminista che si è sviluppato da un paio d'anni e che testimonia a sua volta esso di una volontà di partecipazione quantomeno del popolo italiano. E comunque ricordare queste 21 madri costituenti è ricordare un momento particolare del nostro paese e all'interno di esse anche delle vite speciali diciamo del nostro paese perché le donne fino ad allora non votavano e invece alcune di esse ancora poche rispetto al totale dei costituenti si ritrovarono a scrivere parti della Costituzione. Parti importanti parteciparono al dibattito furono diverse erano combattenti partigiani resistenti e quindi è anche un omaggio a loro a tutte le resistenti con un occhio alle condizioni attuali della donna che sconta tante resistenze che sono durate nei decenni dopo l'applicazione della Costituzione ad esempio anche il fatto che fossero 21 su 500 e passa costituenti perché era la prima volta oppure il fatto che nel convegno è stato ricordato ad esempio che fino agli anni 70 c'era il delitto d'onore c'è una mentalità che si è concretizzata negli anni e anche questo sessismo questa violenza la troviamo l'espressione della violenza nei confronti dei più deboli si manifesta nei confronti delle donne dei bambini dei disabili e sono forme gravissime di mancanza di rispetto della dignità umana quindi anche questo ci interroga interroga l'ampi tutto ciò che porta colpi appunto al rispetto della dignità dell'uomo quindi e non solo del cittadino e anche questa mostra è un esempio di come le tematiche del passato possano essere trattate ricordate e ci permettono di studiare delle nuove risposte ai problemi del presente grazie a Fabrizio De Santis per essere stato con noi grazie a Fabrizio De Santis